Ora, or dunque, passiamo a tre novità Tre numeri 1 Infatti credo che spendo tanto se comincio a comprare numeri 1 a raffica Vabbè, facciamo finta di niente E allora, siccome non sapevo in che ordine proporveli in ordine alfabetico di titolo Così non facciamo torto a nessuno Passiamo subito Ho preso King of Thorn numero 1 Di Yuji Iwara Avevo deciso di non prenderlo Ebbene sì Però poi l'ho sentito parlare ovunque Ed è scritto come interessante, bello, pure sulla nanodattiv Ho fatto vabbè, lo prendo Non mi sono riuscita a trattenere Devo dire che mi è piaciuto molto In pratica è un manga molto particolare Una sorta di... Ricorda molto i film post-apocalittici per alcune cose In pratica degli soggetti che sono stati colpiti da una misteriosa malattia chiamata Medusa Vengono ibernati in un centro ricerche In attesa che venga trovata una cura per questa malattia contagiosa che sta plaggiando l'intera umanità A un certo punto questi soggetti si risvegliano da queste capsule di congelamento, di ibernazione Ma trovano che l'intero edificio in cui erano stati rinchiusi è stato praticamente distrutto Ci sono piante rampicanti ovunque e strane creature tipo dinosauri e cose simili molto sanguinari Alla fine rimangono in vita tra tutti quanti solo sette persone Che appunto cercheranno di fuggire Scusate Che cercheranno di fuggire Da appunto da questa struttura Per cercare di capire cosa è successo Perché non sanno neanche quanto tempo sia passato E queste sette persone sono molto diverse C'è questa ragazza Che se non scasumi Che è una ragazza che si trova lì in prete sensi di colpa Perché lei è stata selezionata e la sorella gemella C'è Marco Owen Un misterioso terrorista Non lo so L'ergumeno Che non si sa per quali motivi sia stato rinchiuso C'è un parlamentare C'è un ragazzo di colore C'è un bambino Insomma In questo gruppo variegato di persone Tra litigi, tensioni Cioè deve cercare di fuggire da questo posto Molto claustrofobico Secondo me è ben orchestrato E sì Sembra molto interessante Vediamo qualche tavola Sembra, sembra, sembra Interessantissimo Il primo numero mi è piaciuto Quindi non vedo l'ora di leggere il seguito Poi un'altra novità della GP Publishing È uscito la spada di Paros 1 Su due numeri Di Yumiko Igarashi e Kaoru Kurimoto Al prezzo di 6,90 euro Abbiamo un volume da 300 pagine E passa Yumiko Igarashi La disegnatrice È famosa per Candy Candy E Georgie per esempio Insomma Kaoru Kurimoto A molti di voi suonerà familiare Perché è l'autrice Insomma La sceneggiatrice Di Queen Saga Infatti a quanto ho letto in giro Questo fumetto In due numeri Potrebbe essere ambientato Nel mondo di Queen Saga Insomma Anche se in maniera totalmente collaterale Quindi le cose possono Anche essere lette In maniera del tutto Indipendente Non è questo davanti E questa è l'illustrazione sul retro Che è diversa Lo stile È un po' Quello Abbastanza classico Del Igarashi Anche se è uno stile Un po' più adulto E è un tipico romanzo Di un manga Che è proprio Cappa e spada Anche se magari Più che ai combattimenti Punta all'introspezione Scusate Infatti E la protagonista È Herminia La principessa Di Paros Sarebbe una principessa Ma Praticamente lei Si sente un uomo Dice di essere un uomo E di avere il cuore E l'anima di un uomo In un corpo da donna Quindi soffre molto Per questa sua condizione Si veste da soldato Si comporta come un soldato E Non riesce a innamorarsi Degli uomini Scusate E In pratica Il re vuole che si sposi Per forza con qualcuno Per dare un erete al trono Però Questo lei Mi dice molto ribello Non vuole che ci accada Fino a che Incontra Fiona Una lavandaia L'incontro tra Queste due donne Darà il via A una passione Incredibile Mi è piaciuto E' molto interessante Anche il fatto Che sia uno scioggio Ma in realtà La protagonista Si senta un uomo In realtà Sicuramente Gli da una connotazione Interessante Rispetto al solito E L'unica cosa E' che forse Il loro Il rapporto Tra le due Mi sembra che rimanga Un po' Su una passione Forse un po' Superficiale Sulle forie del momento Almeno è questo Primo numero Per quanto si facciano Grandi proclami Di amore Eccetera Quindi sono molto Curiosa di vedere Il secondo numero Però mi è piaciuto E sicuramente Se potete leggere Uno scioggio Un po' Diverso Che vi piace Magari il fantasy Cioè l'ambientazione Fantasy Più che altro Questo sicuramente Potrebbe fare Per voi Ora Ultima novità Che anche Alcune persone Mi hanno chiesto Di recensire Per la Star Comics E' uscito Mushishi 1 Di Yuki Urushibara Eccolo qui Era uscito In anteprima Look Però in fumetteria E' uscito solo La settimana scorsa Quindi l'ho preso L'edizione è molto particolare Almeno per i canoni Star Comics Perché la copertina E' di cartoncino rigido E probabilmente fa Ecco Non riesco a fare In questo lavoro Un cartoncino Così Quindi Se voi l'aprite tutta Oddio Risto che rompe tutto Viene Così Molto bella Molto particolare Forse un tantino Scomoda inizialmente Per leggere il manga E' un manga Estremamente particolare Ci viene proposto Il prezzo di 6 euro Che non è poco Però considerando Un po' i canoni Star Comics E' un buon prezzo Perché un cuna Copertina così particolare Questo bel formato Non si era visto Somiglia un po' Alla copertina di Cesare Almeno la consistenza Del cartoncino Che ci dà presente Allora Qui sembra bianco Però in realtà Questo cartoncino Sul giallino Crema Insomma Non sembra Questo pallido colore Vabbè Non si vede Però fidatevi E' giallino E La storia E' molto particolare Si tratta di episodi Storia e episodi E in cui Il protagonista E' Ginko Un muscici C'è un esperto Un cacciatore Più o meno Forse non è la parola giusta Di musci I musci sono Dei particolari spiriti Che si trovano A metà Tra la vita E la morte E che spesso Ma sono spiriti invisibili Normalmente All'occhio umano Che però Possono Causare Possono In alcuni casi Parassitare Degli esseri umani Causando alcuni Disturbi Come la perdita dell'udito Delle particolarità Nella vista E cose varie Mi sono spiegata malissimo Però E' una Una storia Ambientata in una sorta Di Giappone Una sorta di Giappone Ottocentesco Anche Della teotice Dice che è un'era Un po' Indefinita E' molto Unidico Come Come manga Si vive Un'atmosfera Proprio Eterea Molto spesso E le tavole A volte Sono più pittoriche Sembano quasi pittoriche Che Che ha Che disegni Veri e propri Questi sono un esempio Di musci Per esempio Di questi grovigli Qui Ce ne sono tantissime Di vari tipi C'era una tavola Bellissima C'è anche Ci sono anche Alcune pagine A colori Una la volevo far vedere Perché mi è particolarmente Riasciuta Sembra Un quadro Più che una tavola Questa Questa qui Guardate che bella Almeno secondo me Io la trovo stupenda E' veramente Un manga Particolare Ricorda Quest'autrice L'ho già letto In vari forum Che molti hanno notato Ricorda molto Keitome Forse per alcune tematiche La Keitome Per esempio Di Fukuruma Memories Non lo so Questa atmosfera Un po' Impalpabile Eterea Tra il sogno E la realtà Che tratta questi temi Così Non lo so Spero di essermi Fatta capire L'ho trovato Bellissimo Che ti rapisce E ti porta In un'atmosfera Particolare Io direi che Io lo consiglierei Cioè Se avete 6 euro E volete una storia Veramente diversa In cui Popolata da esseri Misteriosi Da conoscere Pian piano Insieme al protagonista E il protagonista stesso Pare che nasconda Molto di più Di quello che si vede A prima vista Io ve lo consiglio E' stato veramente Un bel titolo E sono veramente Contenta Di averlo Comprato Ecco Con questo è Con questo è tutto Mi scuso Per la voce Per i colpi di tosse E ne taglierò Sicuramente tantissimi Perché ho tossito In continuazione Durante questo video E quindi Spero che comunque Sia stata Interestante Spero di essere Stata comprensibile Perché mi sento Veramente Rintronata Questi giorni Ho anche avuto La febbre Insomma Macello Quindi Con questo vi saluto Ciao Alla prossima